Sono Massimo Zenga un danzatore pugliese. Questo percorso mi vede interprete ma soprattutto autore di questo spettacolo dal titolo Ad un passo da me. In realtà mi è capitato già altre volte di essere autore di lavori ma in questo percorso autoriale che è sempre un lavoro molto interessante che mi affascina diciamo che ho trovato interessante e mi sono avvalso della collaborazione di videomakers perché all'interno del mio lavoro c'è un video e di un musicista che mi ha aiutato un po' a creare le atmosfere sonore. Per cui è stata importante un po' la cooperazione, arrivare ad un'idea comune ed è stato anche importante un po' vedere come si è evoluta nel processo creativo quella che era la mia idea iniziale che poi man mano quasi è andata persa e poi così l'ho ritrovata alla fine quindi in un certo qual modo ho ritrovato un pensiero circolare che è ritornato. in un certo qual modo in questo percorso GDA mi è servito molto il confronto con gli altri quindi il confronto mi è servito in un certo qual modo per mettere in discussione un po' la mia idea ma in un certo qual modo anche per rafforzarla per altre cose per cui ecco ritengo questo il punto di forza del GDA il confronto un po' che c'è stato il confronto con gli altri grazie a tutti grazie a tutti